Lecco ideale, lista civica a sostegno di Peppino Ciresa, candidato del centrodestra, sindaco di Lecco. Capolista Antonio Rossi, innanzitutto, quali sono le caratteristiche della vostra formazione? La nostra è una lista civica, la lista del sindaco, siamo i pretoriani del Peppino, quindi gente che si è messa a disposizione con la sua esperienza, arrivano da molti spaccati della città e si sono messi a disposizione proprio perché credono nella figura di Peppino Ciresa e nel centrodestra ovviamente. Pensiamo che Peppino sia la persona giusta per governare, che con la sua esperienza, con la sua saggezza, riesca a unificare un programma delle quattro forze che compongono il centrodestra e quindi siamo molto convinti in questa elezione. Quali sono le caratteristiche dei candidati? Chi sono le persone che hanno deciso di sostenere questo progetto? Sono varie figure, dal mondo sociale, dall'associazionismo sportivo, commercialisti, avvocati, anche gente con esperienza in politica, nella politica locale, ma anche gente impegnata nei temi ambientali e come dicevo prima nel sociale, varie figure che possono dare l'esperienza di una Lecco compatta innanzitutto e poi portare l'esperienza dei vari regioni dove abitano. Dopo un po' di anni in cui non mi obbligavo più di politica ho deciso di impegnarmi e sostenere Peppino Ciresa perché il Peppino Ciresa secondo me è il migliore candidato che Lecco possa avere, il migliore sindaco dei prossimi cinque anni. Questo non ha demerito di Mauro Gattinoglio con la Doversè che è ancora un ottimo rapporto e stimo, ma credo che lui abbia una marcia in più, questa per le sue esperienze importanti sia in campo professionale che amministrativo che di volontariato. Col Peppino veramente si può far bene, allora mi sono impegnato sia nel realizzare un gruppo di lavoro legato al turismo con dei contenuti molto concreti e importanti perché poi possono aiutare chi sarà assessore a sviluppare un programma articolato con degli operatori che lo possono supportare che allo stesso tempo dandomi da fare a 360 gradi sulla mia città che amo tanto, quindi con Peppino Ciresa in modo convinto.